Ciao a tutti siamo qui con Martina Gin che mi farà un make up, mi farà invecchiare più o meno di 50 anni. Andremo a Milano poi a fare un po' di salti mortali in mezzo alla gente e vediamo come reagiscono a queste pazzie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.